Io e il collega Invernizia abbiamo lasciato Bergamo, il fronte di Bergamo, per un giorno per venire qui a portare la voce di una terra duramente provata. Non sappiamo più dove portare i morti, ma non sappiamo più neanche dove mettere i malati. Siamo qui a chiedere chiarezza e soluzioni. In poche settimane Bergamo sta perdendo i suoi nonni e così anche a Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Lecco e in tante altre città d'Italia. Ma dobbiamo pensare anche a chi si sta mettendo anima e cuore per salvare gli altri. Ministro, le case di riposo della nostra provincia hanno avuto gli ospiti dimezzati. Il virus è entrato nelle residenze per anziani e si è portato via centinaia di nonni e genitori. E nonostante le resse assi nel fronte più esposto, il personale che vi lavora, gli eroici operatori sanitari sono allo stremo e senza protezione. Lo stesso vale per i centri disabili. Queste strutture, per quanto riguarda la prevenzione, vanno quindi equiparate a quella del sistema sanitario nazionale. Prima di tornarci a Bergamo ci permetta solo di ringraziare di cuore chi non si ferma mai perché i bergamaschi non sono abituati a restare con le mani in mano. In questo momento centinaia di volontari alpini, idraulici, elettricisti, imbianchini, i ragazzi della Curva Nord dell'Atalanta stanno allestendo un ospedale da campo nella Fiera di Bergamo. Aziende, associazioni, semplici cittadini stanno donando milioni di euro agli ospedali bergamaschi. La protezione civile dei comuni non si ferma un attimo. I sindaci e i consiglieri sono tutti in prima fila. Grazie di cuore, grazie davvero a tutti perché noi non ci fermeremo mai. Grazie.